Buongiorno da Expo, sono in compagnia del signor Franco Costa, amministratore della Novarese Zuccheri, azienda della provincia di Novara. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Signor Costa, la Novarese Zuccheri è un'azienda di 60 anni di storia. Ci racconti un po' la storia di Novarese Zuccheri. Sì, è nata come praticamente l'ha fondata mio suocero, trasportando zucchero, dopodiché è iniziato la commercializzazione e circa 30 anni fa siamo entrati in società io e mia moglie e abbiamo iniziato a confezionare tutti i tipi di zucchero, dal pacco da chilo ai sacchi alle bustine e da lì è cresciuta l'azienda, un'azienda solo commerciale con tre dipendenti, è diventata un'azienda di 30 dipendenti con un fatturato notevole, presente in tutto il mercato nazionale e è tutto oggi insomma. Quindi la vostra azienda confeziona zuccheri e produce derivati. Sì, produciamo derivati. Ora abbiamo diversificato molto anche i prodotti perché produciamo delle cioccolate, la tipica cioccolata italiana densa, dei dolcificanti, sia classici quindi con saccarina e aspartame ed ora abbiamo iniziato a produrre una linea di dolcificanti a base di stevia che questo dolcificante è naturale, l'unico naturale esistente al mondo e deriva da una pianta che si contiva in Sud America. Abbiamo creato questa linea di prodotti a base di stevia che comprende anche della cioccolata, dei budini alla vaniglia e al cioccolato, della panna cotta, del caffè al ginseng, tutto dolcificato con questa stevia. La stevia è un dolcificante a zero calorie, quindi praticamente togliamo tutte le calorie dello zucchero da questi prodotti che l'ho elencato. Quindi un'attività diversificata, confezionamento di zucchero e produzione di derivati. Per quanto riguarda le novità, allora Novarese Zuccheri è un'azienda che a livello tecnologico impiega macchinari piuttosto avanzati. Siete comunque un'azienda dinamica, un'azienda italiana, avete una novità di cui mi parlava prima? Sì, la novità, l'ultima nostra produzione sono delle bustine con un incarto biodegradabile compostabile, quindi dopo aver utilizzato lo zucchero che contiene la bustina, la bustina va messa nell'umido, quindi va nell'umido, praticamente va insieme agli scarti alimentari eccetera. Certamente, quindi considerando i tempi in cui i consumatori sono molto sensibili al problema dell'ambiente, alla biodegradabilità, voi avete, diciamo, assecondato quello che è un po' l'esigenza del mercato. Esatto. E poi altri nuovi progetti. Abbiamo il progetto di commercializzare uno zucchero Fair Trade. Che cosa significa? Fair Trade è un'organizzazione mondiale che aiuta i piccoli agricoltori. Quindi, in questo caso, i agricoltori di canna da zucchero, produttori di canna da zucchero del terzo mondo, che utilizzano ancora mezzi molto basilari, diciamo, e vengono un po', come posso dire, soffocati dalla grande industria, dai grandi produttori. In questo caso, questa organizzazione paga più caro il prodotto a questi agricoltori per aiutarli a sviluppare le loro tecnologie. Quindi un sostegno per questi agricoltori che sono più in difficoltà perché tendono a essere soffocati dalle grandi aziende. Esatto. Sì. Forse soffocati non è la parola giusta, però vengono... Più in difficoltà. Sì, in difficoltà e poi veramente io ho visto dei filmati, ho visto delle... Usano ancora le zappe, usano ancora le macete per tagliare le canne, cioè usano proprio... Siamo ancora... I mezzi di lavoro sono ancora abbastanza, diciamo, arretrati rispetto alle nostre abitudini. Per quanto riguarda le manifestazioni, voi avete partecipato a Tutto Food e siete ad Expo. Sì, abbiamo partecipato a Tutto Food con uno stand dove abbiamo ricevuto tutti i nostri clienti, soprattutto i più lontani e anche alcuni che venivano dall'estero. Ora siamo presenti ad Expo nel padiglione Cibus Federal Alimentare con un pannello dove praticamente presentiamo i nostri prodotti e ci sono delle foto che... che rappresentano un po' tutta la nostra storia dal fondatore che era il signor Bergamelli a oggi con tutte le nostre tecnologie di macchinari, noi quando eravamo piccoli, ora che noi che siamo grandi, eccetera, eccetera, tutto lo sviluppo aziendale. Per quanto riguarda l'estero, allora i vostri prodotti vengono distribuiti su scala nazionale, però siete anche rivolte al mercato estero. Sì, siamo rivolte al mercato estero, infatti questa partecipazione ad Expo è stata fatta proprio in funzione a questo perché Cibus Federal Alimentare ci organizza degli incontri B2B con delle delegazioni estere, infatti ne abbiamo già fatti 5 o 6 con dei giapponesi, canadesi, americani, eccetera, e ce ne saranno delle altre ulteriori a mano a mano che proseguirà l'Expo. Da Padiglioni Italia e da Expe è tutto, signor Costa la ringrazio e arrivederci. Grazie a voi e di nuovo arrivederci.